Salve a tutti, sono Marta Costantini, sono un'atleta che ha appena disputato i latini americani 19-34 a 1, classificata in secondo posto, ritengo questa manifestazione e questo circuito, perché oramai dall'inizio ho iniziato a frequentarlo, la ritengo molto valida, il sistema di giudizio è molto valido e anche il fatto dell'ingresso gratuito per i genitori, con il fatto che comunque la crisi sta invalendo un po' tutto il paese, la ritengo una cosa molto molto valida. E' un piccolo aiuto anche per i genitori. E dopo niente... No, ringrazio tutti, ringrazio il maestro pregnolato dell'organizzazione della gara, anche il team Mamo e niente... Grazie a tutti!